Allora, nell'ordine di chi si è iscritto, chiamerò adesso altri quattro esponenti, opinioni o proposte più che altro, che saranno la prima sarà Ines Cavalcanti della Ciambradoc, poi Giuseppe Corongiu, poi Giacomo Leombardo e poi Marco Stolfo. E poi proporrei, facciamo una breve pausa per cercare di riordinarci un po' noi stessi le idee. Prego Ines. Ma io vorrei riprendere il discorso di Aurelia Argemi questa mattina, cioè il fatto che noi in effetti non abbiamo una grande autostima di noi stessi e non crediamo veramente di poter dialogare con l'esterno, o almeno lo facciamo sporadicamente, ma non lo facciamo con determinazione. I progetti che noi facciamo devono essere di rete, ma devono essere anche dei progetti che in qualche modo interessano la società attuale. Cioè noi dobbiamo inserirsi in una dinamica di società attuale e dobbiamo vedere anche che cosa interessa a noi, ma che cosa può suscitare un dinamismo all'interno dei luoghi dove noi lavoriamo. Ora su questo devo dire che noi sono parecchi anni che lavoriamo in questo sistema e comunque vediamo dei buoni risultati. Un risultato sicuramente importante è la collaborazione con la provincia di Torino, dove abbiamo visto che la partecipazione a grandi eventi, Torino in questi anni ha avuto la fortuna di partecipare a dei grandi eventi come le Olimpiadi, ma come quest'anno tutte le manifestazioni che hanno fatto nel centocinquantesimo dell'Unità d'Italia. Ecco invece di stare ai margini di queste manifestazioni, in cui comunque in qualche modo soprattutto nelle Olimpiadi del 2006, con un sindaco friulano a Torino, abbiamo avuto delle gravissime difficoltà ad entrare, ma dove pian pianino ci stiamo costruendo il nostro cammino. Noi entriamo non dalla porta di servizio direi, ma con delle nostre iniziative, con delle iniziative che hanno del costrutto e in questo modo abbiamo la possibilità di avere una visibilità normale, sui mezzi normali, perché per esempio a Ceresole Reale abbiamo avuto una visibilità sui mezzi di comunicazione che ci capita raramente di avere, ma non folcloristica, cioè al pari di tutte le altre manifestazioni che si sono fatte nel centocinquantesimo. Ora, quale sarebbe stata la cosa sbagliata? Se noi ci fossimo inseriti in questo in modo folcloristico, se ci avessero chiesto di andare a ballare la Curento e la Gigo, ma noi non ci hanno chiesto questo. Noi abbiamo fatto una giornata nazionale dedicata alle minoranze linguistiche, con l'idea di creare veramente una rete che vada verso il futuro. E devo dire una cosa che un grande progetto che noi abbiamo fatto, che secondo me non è stato abbastanza capito, è stato il progetto del 2006, Lengodò Patrimonio Mondiale dell'Umanità, cioè noi del 2008. Noi nel 2008 siamo stati i primi in Europa a lanciare un appello perché la lingua occitana venga inserita nel patrimonio immateriale dell'umanità. Ora, questo secondo me è una cosa che deve essere capita, noi siamo troppo deboli per farci questa pratica da soli, come adesso la regione Piemonte, eccetera. Noi avremmo bisogno però che questo nostro appello venissimo aiutati. Per esempio, appunto, dai ladini, no? Voi avete un'iscrizione nel patrimonio immateriale, ma nel patrimonio immateriale tutta la lista è aperta. Tra l'altro noi, siamo già andati a parlare all'UNESCO a Roma, potremmo lanciare una candidatura a livello internazionale, cioè quindi Italia, Francia, Spagna. Le candidature del patrimonio immateriale a livello internazionale sono molto rare, per cui l'UNESCO a Roma ci ha detto che tra l'altro la lingua d'oc, nessuno può dire che la lingua d'oc non ha i crismi per entrare nel patrimonio immateriale dell'umanità. E allora perché non magari costituire una commissione, non so, una collaborazione, insomma, dove noi riprendiamo questo argomento e voi ci aiutate, ci aiutate a vedere come montare questo dossier. E potremmo anche, partendo da questo, fare una serie di riflessioni, non brutte, veramente interessanti, anche adesso che avete Annibale Salsa, che è anche, diciamo, una persona con la quale noi sono anni che collaboriamo. Io voglio ricordare che Annibale Salsa nel 74, quando noi nelle Valiocittà eravamo degli emarginati, super emarginati, veniva alle nostre riunioni e ci sosteneva. Quindi la cosa interessante sarebbe di organizzare qualche manifestazione insieme di rete che abbia molta visibilità e abbiamo, una potrebbe essere una camminata nei paesi ladini che ricalca l'Ussitaniopè, ma abbiamo anche un progetto di rete quest'anno che ha avuto dei grandi risultati territoriali, che si chiama Carovano Balacaval, dove 6-8 suonatori con 4 cavalli e 4 carrozze hanno girato per 4 mesi nelle valli e nella pianura, insomma un po' dappertutto, portando una serie di comunicazioni esterne, legate anche all'ecoturismo, legate alle minoranze linguistiche, legate alla multiculturalità e abbiamo avuto dei risultati grandi. Ecco, questo, quindi io penso che noi potremmo, diciamo, in qualche modo riuscire a collaborare insieme già su delle cose che comunque hanno un peso anche a livello europeo di grande qualità, perché la discussione sul patrimonio immateriale è molto interessante, legata a una lingua e alla cultura. Venendo proprio a una proposta molto pratica che io vorrei fare oggi, partendo dal discorso del dottor Candido, noi in questi anni abbiamo realizzato un portale web, all'interno di questo portale web abbiamo una rete delle minoranze linguistiche, Cittana, Franco-Provenzale e Valser, abbiamo recuperato molti materiali d'archivio e quindi abbiamo ridato vita a tutto un lavoro che abbiamo fatto negli ultimi 40 anni, mettendo all'interno del sito in rete sia il materiale di memoria, sia il materiale attuale, senza nessuna distinzione, per cui anche il materiale di memoria ridiventa attuale. E adesso, secondo me, il passo successivo, non nostro, ma noi come Ciambrodò ci mettiamo a disposizione, se c'è bisogno di noi per aiutare a realizzare, perché noi siamo un'associazione, un'associazione che non lavora in conflitto con le istituzioni, ma che mantenendo una propria individualità collabora con le istituzioni e cerca di essere un po' il lievito che può far salire determinate azioni. e vorremmo che venisse fatta, cioè l'idea che lanciamo, che abbiamo già lavorato con Marco Viola in questo periodo, eccetera, e di fare una news, una news abbastanza regolare, avvalendoci, riprendendo il discorso di Aurelio Orgemi questa mattina, avvalendoci anche di contributi esterni, di persone che possono collaborare a queste news, anche con delle riflessioni attuali sulla questione delle lingue, della multiculturalità, delle minoranze, eccetera, e che abbia un indirizzario molto corposo di tutti i giornali che ci sono in Italia, di tutti i giornali che ci sono nell'ambito delle minoranze. Quindi la proposta che faccio è che si esamini questa proposta di fare una news delle minoranze che esca con regolarità, che faccia, diciamo, che dialoghi con l'esterno, con i giornalisti, con i media, eccetera, che diventi credibile nel tempo, è una cosa non troppo difficile che secondo me riusciremo a fare e che potrebbe darci dei buoni risultati. Grazie. 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 Allora, grazie Ines. Adesso chiamerei Giuseppe Corongiu, direttore del servizio di lingua e cultura sarda della regione Sardegna. Prego. Regione autonoma. Ancora per un po', poi non serviamo qua. Un saluto a tutti, ovviamente, sono qui anche in rappresentanza dell'assessore Sergio Miria a rappresentare la nostra regione autonoma. Un ringraziamento agli organizzatori della manifestazione, molto interessante, molto profonda, e molto utile per quel che riguarda il confronto tra le nostre minoranze. Un, come dire, anche un apprezzamento particolare alla Val di Fassa, che è sempre un posto meraviglioso e bellissimo. Io con la mia famiglia ci sono venuto spesso e quindi tornarci per lavorare mi ha scatenato tutta una serie di emozioni particolari. so che a volte è noioso sentire queste cose. Anche noi, in Sardegna, arrivano le persone che bel mare, che avete, che... E a volte è un po' noioso sentirlo dire dagli altri. Però forse dopo questa esperienza comincerò a essere più tollerante perché effettivamente tornarci non per le vacanze ma per il lavoro, effettivamente, rende il lavoro molto piacevole. A parte queste considerazioni che vanno anche sul personale anche per non appesantire troppo la seduta perché insomma siamo anche un po' stanchi e c'è bisogno effettivamente di una pausa vorrei soffermarmi su alcuni concetti che sono stati ripresi stamattina a raccontare un po' due cose sulla nostra attività e fare anche delle proposte operative. Sono due concetti che vorrei sottolineare fra i tanti che abbiamo sentito insomma gli altri non si offendano né si sentano diminuiti ma ovviamente ognuno ha una sua visione delle cose e viene colpito da determinati concetti. Intanto il legame che ha aggregiamente rilevato Sansa e che in Val di Fassa si capisce molto bene ma anche in Sardegna sulla difesa ambientale intesa non solo come difesa delle rocce o del mare o di un paesaggio ma come difesa culturale. E questo è molto importante perché è molto facile nella società di oggi soprattutto in Italia far passare il valore della integrità ambientale della difesa dell'ambiente mentre è molto più difficile far passare il valore della specificità culturale se non linguistica. Per la mentalità media italiana diciamo l'argomento linguistico è sempre un po' tabù per la storia che conosciamo dell'Italia e quindi invece questo legame mi sembra molto importante e molto da sottolineare. Un altro concetto fondamentale che ha espresso il nostro noi siamo un po' cugini con i catalani quindi il nostro argimbi stamattina è questo non facciamoci raccontare dagli altri che sicuramente per l'esperienza catalana di livello europeo per quella sarda in particolare ma per tutte le minoranze è molto importante perché le culture egemoni le culture che dominano rivolgono sempre un loro sguardo particolare nei confronti delle minoranze e non sempre le popolazioni delle minoranze sono in grado di difendersi dai luoghi comuni dagli stereotipi dai pregiudizi che le culture dominanti riversano su di loro. Credo che sia un fatto relativo a tutte le minoranze in tutto il mondo però dobbiamo stare attentissimi a questo perché anche a livello inconsapevole anche a livello cosciente ma magari non razionale passa una visione poi delle nostre lingue delle nostre culture delle nostre identità che non è esattamente elaborata da noi ma ci viene trasmessa attraverso i canali della comunicazione dell'educazione soprattutto io posso fare un esempio di cui in questi giorni si discute molto in Sardegna nello spettacolo bellissimo che abbiamo visto prima di pranzo si è parlato del sardo come la lingua più vicina al latino che è un luogo comune che da tempo nella cultura accademica gira ed è diventato quasi un topos della lingua sarda negli ultimi dieci anni sono comparsi già sette autostudi a livello accademico che in qualche modo contestano o dimostrano che provare che il sardo sia più vicino al latino di altre lingue neolattine lo si può fare solo selezionando i dati cioè tenendo conto solo di alcune varietà e non di altre solo di un lessico e non di altro diciamo che è una cosa che si era inventato Dante nel De Vulgari Eloquenza quando diceva ma i sardi non parlano neanche i sardi imitano il latino come scimmie due righe che hanno segnato la storia della filologia sarda fino ad oggi e che in realtà vediamo che oggi viene messo in discussione anche Einstein però insomma questa cosa del latino ancora ed è un classico luogo comune che entra da una cultura altra pervade la cultura minoritaria e ha degli effetti a volte devastanti perché il fatto che il sardo sia vicino al latino significa che è una lingua alcaica antica quindi non va bene per la modernità quindi non si può utilizzare a scuola quindi nei cartelli ecco quindi ha tutta una serie di conseguenze stratificate che i sardi conoscono benissimo come la regione in questi anni si è mossa per difendere e tutelare la lingua sarda diciamo che come bene ha espresso Argemi stamattina noi siamo nella fase della benevolenza fino all'approvazione della 482 c'era un movimento linguistico politico in Sardegna di rivendicazione politica c'era stata una raccolta di firme per un'iniziativa di legge popolare nel 1978 varie vicende due leggi regionali approvate respinte dal governo varie cose è comunque una situazione interna nella quale prevale un senso di non so bene come definirlo per farvi capire il meccanismo comunque l'egemonia culturale in Sardegna è ben salda in mano a oligarchie che hanno fatto una scelta italofona per cui si è convinta la popolazione che si può essere sardi anche parlando in italiano adesso per farla breve cosa che ovviamente né io né quelli che la pensano come a me condividono però per tanti anni si è andati avanti in questa come dire con questa ambiguità tra lingua e cultura che ha reso molto pericolosa qualsiasi operazione di tipo linguistico invece relativamente alla cultura della memoria al patrimonio orale al folklore che in realtà sono stati veicolati in italiano e quindi sono diventati una facile eutanasia per l'abbandono e la sostituzione linguistica non per effetto della legge regionale che è stata provata nel 97 che aveva questo tipo di visione ambigua ma piuttosto per la legge statale in questo caso lo Stato è andato oltre la comunità o almeno la classe dirigente locale mentre la popolazione era più convinta è venuto fuori un nuovo soggetto diciamo culturale che noi definiamo con una lo chiamiamo movimento linguistico comunque un nuovo gruppo di attivismo linguistico che è riuscito in qualche modo a entrare nel gioco e a proporre una nuova idea di perché è veramente nuova questa in Sardità una nuova idea di Sardità basata invece sull'identificazione linguistica abbiamo fatto passi avanti non abbiamo conquistato l'egemonia culturale che comunque è saldamente nelle mani del gruppo diciamo italofano cioè viene veicolato questo tipo di Sardità anche all'esterno anche con luoghi comuni diciamo con una visione dell'ediana della Sardegna però ci sono stati dei passi avanti abbiamo le province che hanno quasi tutte degli sportelli linguisti ci usufruiscono della 482 la regione almeno dal 2007 da quando io me ne occupo attivamente ha deciso di non usufruire direttamente dei fondi della 482 per un semplice ragionamento perché un ente che ha 5 miliardi di manovra finanziaria è inutile che si metta a competere col piccolo comune o con la provincia per avere abbiamo fatto approvare delle leggine perché dopo l'esperienza friulana abbiamo capito che fare una legge quadro regionale su istruzione e varie materie di politica linguistica nell'Italia con la mentalità politico-linguistica di oggi che è abbastanza ipocrita mettere l'avviso allo Stato e dire dai ti faccio la legge impugnamela invece abbiamo provato a ragionare come ragiona lo Stato italiano abbiamo fatto delle leggi finanziarie che non sono state impugnate almeno fino ad oggi sono scaduti i termini quindi si può dire abbiamo istituito lo sportello linguistico regionale il servizio con fondi del bilancio finanziato l'insegnamento a scuola nell'orario curricolare con tutta una vicenda giuridica che non sto qui a raccontarvi perché purtroppo non abbiamo lo statuto speciale della provincia di Trento e ci piacerebbe averlo e siamo costretti quindi a muoverci in un altro modo e vari altri interventi che comunque dimostrano che c'è bisogno di un intervento forte delle istituzioni locali assolutamente non si può delegare tutto allo Stato proposte io penso che nessuno di noi metta in dubbio che ci possa essere una rete un coordinamento sia a livello istituzionale delle istituzioni che qui oggi noi rappresentiamo e sia a livello di associazioni di militanti di movimento perché diciamo che le realtà poi sono composite penso che si possa tranquillamente arrivare anche a una formalizzazione scrivere un documento scrivere un manifesto identificare già un percorso e che la provincia di Trento o la regione tranquillamente possano essere delegate a svolgere questo compito di coordinamento che può partire anche già da oggi poi ognuno nell'istituzione a cui fa riferimento la realtà culturale in cui fa riferimento si farà portavoce e si comincerà un cammino comune che secondo me deve pur nell'impegno delle comunità locali delle istituzioni locali deve andare verso una pressione e un lobbismo verso Roma perché altrimenti se non cominciamo a interloquire a rompere un po' le scatole anche ai deputati e senatori a questo governo o quello che verrà insomma non è un problema è importante per far applicare finalmente la 422 e darci occasioni anche a livello locale grazie allora ci ha raggiunto pochi minuti fa la dottoressa Mariellena De Franceschi che è la dirigente del servizio minoranze della provincia di Trento e buongiorno no prego la invito a prendere la parola visto che è riuscita ad arrivare qua beh insomma poi proseguiamo non so quanto tempo lei abbia a disposizione allora qua c'è un microfono beh sì più o meno acceso sì beh innanzitutto volevo salutare tutti quanti sono stata proprio buttata qua mi scuso se non sono intervenuta prima ma sono stata impegnata questa mattina a Bolzano a Merano in una riunione per la costituzione del GECT che è questo nuovo gruppo di cooperazione che è nato fra Trentino Alto Adige e Tirolo e non è una cosa tanto estranea rispetto almeno ritengo io non ho seguito evidentemente il dibattito di oggi ma sicuramente è un progetto anche quello che va nella direzione di creare sinergie fare rete collaborazione soprattutto fra soggetti che hanno sicuramente caratteristiche simili problematiche simili interessi in comune quindi riteniamo che in un momento in cui probabilmente soprattutto a livello europeo stiamo attraversando una crisi non solo di carattere economico ma anche probabilmente di valori e di identità tutte queste iniziative possono sicuramente essere delle risposte positive in una situazione di questo genere io sono felice di porgere i miei saluti vorrei ringraziare soprattutto chi ha reso possibile l'organizzazione di questa giornata del progetto che è venuto che viene presentato in questa giornata e da parte mia sono nuova nell'incarico ma da parte mia assicuro tutto il mio impegno per cercare di fare il possibile per valorizzare ulteriormente l'attività che viene svolta dalla provincia tutela delle minoranze sul nostro territorio ma anche per creare nuovi rapporti con altre simili identità sul territorio nazionale e internazionale per cui rinnovo il mio saluto e i miei ringraziamenti a tutti quanti grazie intervento quasi telegrafico grazie comunque allora vorrei continuare con i due altri iscritti a parlare che chiamo con molto piacere Giacomo Lombardo sindaco di Ostana oltretutto animatore e iniziatore di una di un'importante ormai attività culturale che si svolge una volta all'anno nel suo comune prego Giacomo e credo che tutti lo conosciate attraverso la ciambra doc e così avanti buongiorno a tutti grazie alla provincia per questo bel convegno che ritengo sia di nuovo un'altra tappa su un cammino che dobbiamo fare insieme ma io non vorrei fare la figura di quello che si lamenta perché qualcuno ha già detto stamattina che non va bene però secondo me bisogna anche guardare la realtà e dire alcune cose noi abbiamo molti nemici qui sono presente sono persone che condividono valori l'amore per la propria lingua per la propria cultura più in generale per la persona cosa che è difficile oggi trovare credo che noi abbiamo una classe politica forse la peggiore non voglio dire dell'ultimo secolo ma forse quasi quasi sì noi abbiamo dei nemici che sono le televisioni quella commerciale non dico di chi ha anche infettato quelle pubbliche e i prodotti che danno hanno fatto sì che il livello medio di cultura hanno fatto insegnato un po' a parlare l'italiano a molti che non lo parlavano però ha abbassato decisamente il livello culturale della gente che è sempre più disinformata non ha più la capacità di conoscere per cui non ha più la capacità di criticare uccidendo completamente gli idealismi questa è la situazione in tutte che ce lo nascondiamo quindi se questa è la partenza il mio è un piccolo comune allora questo per dire della necessità della rete io nella mia valle la valle Po che è quella dove nasce il Po tanti dicono che non esiste la valle Po perché dice un fiume lungo no esiste la valle Po dove nasce siamo 15 comuni il mio è l'unico che fa politica culturale linguistica quindi io da solo muoio evidentemente e quindi mi devo per forza rapportare e confrontare e farmi aiutare da chi fa il lavoro che faccio io quindi e sovente è necessario poi andare fuori dal proprio stretto ambito e quindi questa rete che deve assolutamente nascere se noi vogliamo vivere ma soprattutto l'ha detto prima qualcuno per creare un'interfaccia verso questi signori qui di Roma che si permettono di reciferare senza conoscere minimamente il territorio e quindi la necessità della rete per me ma vi do un piccolo però che pensavo venisse fuori oggi l'ultima finanziaria non che manovra finanziaria articolo 16 modificato varie volte uccide i piccoli comuni allora noi in Piemonte se questo ormai questa è legge verranno eliminati metà dei comuni piemontesi 400 e qualche comune su 1050 e non mi si dica che non è così perché non è vero perché ti dico ho fatto una modifica poi dicendo che in realtà i comuni non muoiono non vengono accorpati se si convenzionano che non sappiamo cosa vuol dire abbiamo già convenzioni per quasi tutto per i rifiuti per l'assistenza tutto i trasporti si convenzionano con una convenzione che deve essere approvata dal ministero però non si dice questa convenzione come è fatta adesso ci saranno dei delegati che lo dicono però anche quelli che ci consorziano che mantengono soltanto la funzione dello stato civile allora voi mi dite qual è il sindaco che vuole fare il sindaco per firmare le carte d'identità o registrare i vivi e i morti a meno che uno faccia sindaco per fare signor sindaco a me non interessa quella roba lì un sindaco che non ha più nelle mani il potere ovviamente con la gente con gli assessori di programmare il futuro del proprio comune ma perché una persona deve fare quello quindi questa legge è passata io mi aspettavo come parlavamo già ieri sera con Annibale che insorgesse tutto il mondo dell'intelligenza italiana perché hanno con una roba di quattro righe un articolo incostituzionale poi noi adesso facciamo tutte le nostre non è finita così perché lede almeno due articoli della Costituzione in più non è applicabile però questo ormai non conoscendo questi signori la realtà locale si permettono da Roma scusami domenico no perché abiti a giù allora si permettono di cancellare mille anni di storia dei comuni ma ci rendiamo conto di cosa vuol dire questo mille anni di storia dei comuni e nessuno è insorto noi abbiamo cercato di bucare i media abbiamo scritto le varie trasmissioni ne ne frega niente nessuno quando Bossi è venuto a Pian del Re abbiamo fatto la manifestazione eravamo 70 sindaci con le fasce quello si è vista ma non non su tutti ma non su tutti non hanno fatto vedere le corna e questo dito io ho imparato che questo dito qui serve a qualcosa onestamente non lo sapevo noi l'abbiamo registrato l'abbiamo mandato su 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 sulle reti ma nessuno l'ha ripreso ecco abbiamo scritto delle lettere a Napolitano è venuto a Cuneo la settimana scorsa tutti i sindaci del Cuneese almeno 200 sindaci hanno scritto più o meno la stessa lettera ognuno l'ha un po' modificata ma l'essenza era quello Napolitano nell'intervento a Cuneo non ha citato lui stesso non ha citato questa cosa pare che il giorno dopo in un'altra occasione ma i sindaci c'erano quel giorno lì a Cuneo c'era Toseli pieno c'era gente fuori che faceva la coda ecco dico questo perché mi pare che siccome i comuni questi comuni che verranno soppressi l'80% è di lingua minoritaria questo pone un grave problema per l'applicazione della 482 le scuole ma ma comunque le attività e l'attività culturale che abbiamo portato avanti fino adesso che fine faranno se io vengo accorpato con un comune più grande che se ne frega delle minoranze il mio lavoro e il lavoro della comunità non è servito a niente ecco quindi la necessità secondo me di fare una rete perché questo masso enorme che abbiamo come diceva stamattina prima l'intervento è un grosso masso ma tutti insieme forse riusciamo a muoverlo e per cui credo che mi limito a questo la rete è assolutamente necessaria perché se ne questi un po' per volta ci uccidono tutte le idealità e soprattutto uccidono la nostra lingua questo che ci ha detto Giacomo Lombardo è davvero qualcosa di tragico tra le ultime cose nefaste che stanno succedendo nel nostro paese allora prima di un breve intervallo perché riprendiamo fiato e respiro chiamo Marco Stolfo di cui non sono istituzione quindi non la posso dire di che istituzione sei ma io ci sono rappresentante Radio Onde Furlane ah ecco va bene un saluto a Duci intanto e grazie per avermi invitato allora io questa sera sono qui a rappresentare forse anche in maniera un po' immeritata la cooperativa Informazione Friulana e Radio Onde Furlane dico in maniera un po' immeritata perché qui al mio posto avrebbe dovuto esserci Paolo Cantarutti di cui io vi porto il saluto che è della cooperativa e quindi della radio il presidente in questi giorni però la cooperativa e la radio sono impegnate nell'organizzare proprio questo sabato un grande concerto forse avete anche visto i volantini che sono vicino all'ingresso Viva Onde Furlane concerto che anche quest'anno si ripropone perché Onde Furlane Viva negli ultimi anni è calata di molto non solo e non tanto la disponibilità di risorse per la tutela delle minoranze linguistiche ma probabilmente è calata o è sparita diciamo che l'incontro di quest'oggi mi fa coraggio forse qualche speranza ce l'abbiamo ancora un po' la strategia sulla valorizzazione delle lingue come patrimonio di tutti delle minoranze e delle maggioranze la tutela delle minoranze come garanzia di diritti fondamentali e la valorizzazione delle lingue la tutela dei diritti linguistici come risorsa risorsa educativa risorsa civica risorsa anche economica cioè le lingue come elemento di valorizzazione del territorio proprio in un momento di crisi possiamo pensare raccogliendo anche l'indicazione di Aurelio Argemidi questa mattina non soltanto a raccontare noi stessi ma se vogliamo prendendo una frase di Joe Strammer io adesso vado in territori musicali parlo dei clash the future is written il futuro è da scrivere in sardo in occitano ed è vivere cantare suonare anche in queste lingue quindi per esempio pensare all'uso delle lingue minoritarie come strumento di valorizzazione del territorio un territorio che magari come quello Fassano si valorizza da sé ma che probabilmente può essere ulteriormente valorizzato facendosi riconoscere ad esempio anche come territorio ladino mettendo assieme i diritti i valori e anche le opportunità le prospettive usando uno slogan che vi propongo questa sera trasformare il logos la lingua in logo come marchio di denominazione controllata di relazioni di territori di prodotti di offerte materiali e immateriali dicevo purtroppo questa strategia è un po' venuta meno nell'ultimo periodo per quanto riguarda la nostra regione la notizia di questi giorni è che l'amico William Cisilino è diventato direttore dell'Arle facenzia regionale Pelenghe Furlane ci riempie di gioia ci dà speranza che abbiamo qualcuno che capisce in un posto strategico e quindi penso che come anche ricordava lui stesso prima capisce e riconosce il valore strategico di Radio de Furlane che da 31 anni fa radio comunicazione informazione produzione culturale usando la lingua friulana raccontando il friuli e il mondo in friulano quindi non la lingua oggetto ma la comunità soggetto che usa la sua lingua per rapportarsi con l'esterno e anche questo penso che sia un elemento avviato ormai messo in pratica dal 2 febbraio del 1980 che è quanto mai di attualità ancora oggi il mio intervento parte da due riflessioni che erano emerse nella prima sessione quella mattutina del nostro incontro si riaggancia a qualche aspetto dell'esperienza di Radio de Furlane per poi arrivare a una serie di proposte teoriche anche magari un po' più concrete che riguardano la necessità che partono dalla necessità di fare rete e arrivano all'opportunità e alle modalità su come è possibile appunto fare fare rete la prima osservazione rispetto alle relazioni di questa mattina che veramente appunto per la loro profondità la loro concretezza in qualche maniera fanno ben sperare chi come me ultimamente aveva visto un po' un calo di visione di strategia di energia in questo campo che tra l'altro come dice anche la stessa Costituzione non è una materia è un principio cioè la tutela delle minoranze linguistiche vale per la cultura come per il calcio in teoria e per il quanto principio riguarda un po' tutti i vari tutti i vari tutti i vari ambiti bene io credo che sia il caso di avere attenzione a non essere privi di autostima ma non aver paura della parola minoranze se noi la parola minoranze che tra l'altro è quella che si usa anche nell'articolo 6 della Costituzione e lasciamolo lì non andiamo non stingali a toccare quell'articolo se noi la intendiamo come non un dato di fatto un dato ontologico potrei dire se ci fosse qui ancora il professor Perone ma piuttosto un dato relazionale o meglio un risultato relazionale cioè che c'è una maggioranza che opprime delle minoranze e quindi le minoranze non sono minoranze in sé ma sono minoranze in quanto minorizzate allora possiamo non aver paura anche di definirci minoranze l'importante è che abbiamo in mente che la nostra prospettiva è quella di tutela non in termini di difesa o di arroccamento o di conservare quel poco ma di difesa attiva difesa positiva visto che siamo tutti in posta anche farei una citazione cinematografica il meglio del cinema italiano e direi usiamo la bizona di Oronzo Canà il 555 giochiamo all'attacco la tutela è una cosa è un qualcosa che deve guardare in avanti uso della lingua centralità delle persone in rapporto al territorio e in rapporto alle altre persone e gli altri territori secondo aspetto globalizzazione e mondializzazione in effetti i francesi distinguono in generale invece non si distingue si considera la globalizzazione sia per la dimensione dei consumi sia per la dimensione dei costumi io credo che sia più corretta questa visione in friulano io direi globalizzazione per tutti e due gli ambiti invece opporrei in maniera positiva la mondializzazione così come stamattina si parlava di non luoghi e di luoghi di non lingue e di lingua a questo punto potremmo anche parlare di un globo informe un non mondo a cui opporre un mondo anzi dei mondi mondi di persone di lingue di relazioni di contatti di vita di futuro tutto ciò si collega in particolare con una delle azioni più importanti che costituiscono a l'uso della lingua b la relazione tra persone tra gruppi la relazione col territorio ed è la comunicazione l'informazione Radio Onde Furlane è nata come Radio Libare dai Furlans come voce di un friuli che voleva già nel 1980 raccontarsi e raccontare il mondo con la sua lingua dopo averlo visto con i suoi occhi e ascoltato con le sue orecchie cioè un punto di vista diverso e su questa linea va e continua ad andare ancora oggi è una radio che racconta il territorio e che mette sempre e da sempre il territorio in relazione con altri territori ma anche favorisce lo dice quasi la parola stessa la rete radiofonica anche lo sviluppo di relazioni in rete tra più soggetti nel medesimo territorio e avendo ben chiara la differenza che c'è tra tolleranza e rispetto chiedendo il rispetto per i diritti linguistici dei friulani Radio Onde Furlane è anche stata ed è ad esempio una radio dove si trasmette in sloveno Radio Onde Furlane è la prima probabilmente radio nello stato italiano che ha aperto i suoi microfoni agli immigrati che hanno anche fatto le loro trasmissioni nelle loro lingue e poi non è un caso che magari c'è un DJ camerunese che trasmette il friulano voglio dire per riprendere una uno slogan di una ventina di anni fa che si usava in friuli quindi non c'è assolutamente differenza da questo punto di vista l'esperienza di rete poi in particolare in questi anni Radio Onde Furlane l'ha sviluppata per l'informazione ma anche per la promozione e la produzione della creatività nella lingua il settore musicale in particolare per esempio con il premio Friul da una parte si è messa in movimento una scena musicale in friulano d'altra parte ad esempio si sono sviluppate relazioni faccio un esempio non a caso con la Val di Fassa e con gruppi fassani che partecipano al premio Friul concorso delle canzoni in lingue minoritarie oppure in friulano da questa esperienza ad esempio è nato anche il coinvolgimento in questa rete europea che oggi è la rete di Suns ed è la rete delle Liete International anni addietro in una logica anche di collaborazione trasfrontaliera territoriale e interlinguistica onde Furlani ha trovato in Radio Agorà piuttosto che in Primorsky Vass la radio dell'area della Valle di Lisonzo sotto in Slovenia degli interlocutori per fare dei progetti di comunicazione e informazione assieme la rete è quindi una pratica che conosciamo è anche uno strumento le nuove tecnologie della comunicazione che in qualche maniera Ode Furlane ha utilizzato anche in maniera innovativa è stato il primo sito internet in friulano le nuove tecnologie sono state utilizzate per creare far partire correttore ortografico in friulano e dizionario ortografico in friulano quindi la radio oltre la radio l'informazione friulana ha anche fatto altro anche in questo altro sempre cercando di mettersi in rete oggi abbiamo una struttura in cui collaborano i soggetti più importanti del territorio friulano che si occupano di lingue che si chiama Consorzi Friul che è il soggetto collettivo che ha dato vita al gran dizionario Bilengal Talian Furlan arriviamo allo sviluppo possibile della rete che cosa si può fare evidentemente abbiamo tante cose da fare che forse addirittura abbiamo solo l'imbarazzo della scelta io credo che sia opportuno anche un po' forse alla luce dell'esperienza di Radio Nde Furlane pensare a tre quattro focus in particolare il primo l'informazione quindi aspetto con interesse di vedere la proposta che ci fa Ines Cavalcanti di informazione che parte dalle minoranze linguistiche e si e si rapporta all'esterno e in qualche modo quello che fa anche Radio Nde Furlane vediamo di capire se e come ci sono delle possibilità di sviluppo in comune tra l'altro Nde Furlane tra i suoi partner ha avuto e ha ancora da più punti di vista anche Radio TV Capodistica tanto per fare un altro esempio di relazioni di relazioni di rete secondo aspetto la produzione la produzione culturale la circuitazione della produzione culturale nella lingua quindi può essere l'input che veniva dalla dottoressa Florian rispetto alla circuitazione degli artisti io dico pensiamo anche all'audiovisivo pensiamo anche alla musica tra l'altro oggi come oggi la musica è un linguaggio universale a prescindere dalla lingua usata l'audiovisivo ha delle parti testuali ma sappiamo tutti che esiste la sottoditolazione che permette di farsi capire facendosi anche sentire nella propria lingua quindi io credo che forse questi sono degli ambiti in cui possiamo sviluppare sinergie e sviluppare rete terzo aspetto dicevo il logos che diventa logo la promozione turistica delle tipicità tanto per fare io faccio sempre un esempio a volte sono anche un po' banale il muset si chiama muset non musetto per parlare del cotechino tipico friulano e non si chiama musetto il musetto è quello della Ferrari è un'altra cosa quindi pensare a una strategia anche a una strategia condivisa in questo senso di salvaguardia e uso dei nomi dei prodotti tipici utilizzando i nomi propri nella lingua propria questo tra l'altro un ragionamento che va anche in questo caso a collegarsi con un discorso di sostenibilità ambientale che considera anche l'uomo e l'uomo che vive nell'ambiente altro aspetto la promozione del protagonismo giovanile nelle e con le lingue minorizzate per uscire dalla minorizzazione noi abbiamo un'esperienza di radio che si chiama radio diis diis in friulano vuol dire giorni come radio deis il film di Woody Allen ma anche dieci si tratta di un'iniziativa di promozione fatta nelle scuole con un dj un rapper un e dopo delle proiezioni video e degli ascolti di musica e un intervistatore a cui abbiamo ci siamo trovati a scoprire da una parte il multiverso plurilingue della scuola oggi in Friuli friulano sloveno tedesco ma poi dopo le lingue degli immigrati ma poi magari i figli discendenti di sardi che vivono in Friuli e insomma sono venute fuori tante cose interessanti d'altra parte promuovere un'immagine nuova ma in realtà vera della lingua che è la lingua di dj to bet che è la lingua di Lidri squadra di 3 film horror in Friulano e che non è quella che ci hanno raccontato la lingua del di quel poveraccio di cui canta con di cui cantava Giorgio Ferigo che oggi è stato riproposto che purtroppo aveva solo la scelta tra farsi tra farsi ammazzare da sobrio o da ubriaco insomma una lingua quindi arrivando questi secondo me possono essere gli ambiti in cui muoversi come muoversi parto da un dato molto concreto c'era qui il professor Salsa c'è la fondazione del Dolomiti che giustamente si chiama Dolomiti Dolomiten Dolomites e Dolomitis perché riguarda un territorio quello dolomitico che tocca quattro aree linguistiche diverse probabilmente una prima azione concreta è quella che riguardante la comunicazione dell'attività di questa fondazione per questo territorio per la promozione di questa area geografica con suoi elementi specifici l'area dolomitica oggi come oggi chiedo a voi come si promuovono le Dolomiti Dolomiten Dolomites Dolomites io ho il piccolo sospetto che si promuovano solo in italiano e forse in inglese e forse qualcosa anche in tedesco probabilmente mettiamo assieme le competenze nel mondo dell'informazione e della comunicazione internet radio audiovisivo tv e proviamo a capire che cosa si può fare utilizzando appunto il logos e il logo in maniera positiva per le Dolomiti e per tutte le genti che attorno alle Dolomiti vivono questa è una proposta che forse non copre l'universo mondo della rete che noi possiamo creare ma rete chiama rete qualche nodo permette di legarsi ad altri nodi altro elemento il turismo delle minoranze i nostri territori sono dei territori anche da una parte a volte devastati non solo nell'animo nella lingua ma anche nel paesaggio a volte per fortuna come in questo caso resistono nella loro specificità hanno una loro attrattività d'altro canto oggi ci si muove tutti anche gli appartenenti e le minoranze linguistiche probabilmente una rete possibile di reciproco marketing territoriale la Val di Fassa si promuove in Sardegna la Sardegna si promuove in Friuli il Friuli si promuove in Val d'Aran lo facciamo usando le nostre lingue alla fine ci capiamo e probabilmente riusciamo a fare a prendere come si dice due piccioni con una fava io mi fermo qui e vi ringrazio per l'attenzione sono a disposizione per eventuali chiarimenti approfondimenti aspetto di vedere poi che cosa Ciambrodoc e Carlo Zoli ci faranno vedere grazie a tutti e mandi ho chiesto la parola Silvano Palamà della Grecia Salentina che voleva evidentemente fare alcuni commenti e proposte prego Allora sarò molto breve anche perché molte delle cose che si pensava di dire man mano che passa il tempo poi qualcuno le dice per cui cade la motivazione e io in genere sono abbastanza pratico nelle cose allora mi sembra assodato che ci sia la voglia da parte di tutti di arrivare a questa rete e cominciamo a pensare all'aspetto pratico a come deve essere che tempi deve avere chi la deve gestire come se no rimane un'idea e allora io avevo pensavo che forse serve più che una rete una rete un insieme di reti perché le problematiche delle minoranze sono diverse e allora ci sono degli specialisti che si occupano della scuola o che si occupano degli eventi o che si occupano dei rapporti di tipo istituzionale eccetera e allora vedrei io questo intanto un sito ovviamente perché è quello che consente a tutti di comunicare strutturato a sezioni intanto farei leva su quello che già a Trento c'è per le minoranze linguistiche dandogli una dimensione ancora più ampia facendolo diventare proprio un sito dove a rete possano collaborare tutte le minoranze d'Italia e per far questo naturalmente servono dei referenti in ogni area e qua vedo molto bene la collaborazione stretta con Femmili perché ha il polso di tutte le situazioni delle lingue minoritarie in Italia conosce i vari esponenti conosce la capacità e le competenze dei vari esponenti quindi può costruire già sulla carta una piccola rete di collaboratori che va verificata che siano i terminali presso le varie minoranze per le varie tematiche ovviamente sarà per esempio un dirigente scolastico che si occuperà dei progetti legati alle scuole sarà un amministratore locale che parlerà di come gli enti si sta parlerà che raccoglierà gli elementi che riguardano il modo di muoversi degli enti eccetera questi settori che io vedrei che potrebbero avere anche un valore informativo per noi ma divulgativo all'esterno vedrei per esempio un settore che riguarda gli eventi gli eventi più rilevanti e qua la funzione poi di chi gestisce la rete ovviamente è anche quella di filtrare perché c'è da una parte il rischio che si abbiano poche informazioni ma dall'altra il rischio che se ne abbiano tante e che magari di scarsa rilevanza le troppe informazioni qualche volta sono simili negli effetti alle poche informazioni quindi quello che viene dalle varie minoranze deve essere filtrato soprattutto per avere un taglio comune che è quello che riguarda la lingua e le culture perché poi nei vari posti avviene di tutto dalle manifestazioni sportive ai concorsi canori eccetera quindi un primo filtro deve essere già sulla qualità e sulle motivazioni di questi interventi quindi qualcuno che gestisca gestisca un settore che riguarda gli eventi ovviamente di tipo culturale un altro settore che riguardi la scuola non solo come informazioni di quello che le scuole fanno ma per mettere in contatto fra loro e le scuole di arrivare a progetti di rete cose che in parte già si fa però avendo un punto di informazioni comuni nasce la possibilità di unirsi più facilmente di scambiare esperienze e di arrivare ad elaborazione comune di progetti quindi un settore che riguardi la scuola un altro che riguardi le associazioni che sono quelle che mancano nella 482 sono quelle che lavorano di più nel territorio e quindi informazioni sulle attività che svolgono le associazioni e su quello che possono fare le associazioni e qua rientra quel concetto del principio di justitarietà da applicare anche a livello orizzontale forse non si sa ma molte associazioni fanno quello che entri non fanno e allora bisogna recuperare laddove sono valide queste esperienze recuperarle nella rete e quindi è l'altro aspetto e poi la costruzione ovviamente dei progetti comuni infine la costruzione per esempio di una bibliografia possibilmente una bibliografia ragionata delle minoranze dove ognuno costruisca un pezzetto di questa informazione che debba confluire in un'informazione comune a tutte le minoranze e quindi le pubblicazioni fatte che riguardano l'insieme delle minoranze o minoranze specifiche ma devono confluire tutte in una grande bibliografia ormai in maniera informatica questo è possibile dovessimo stamparlo non sarebbe possibile anche per la velocità di nuova produzione però la cosa migliore è usare internet per dare queste informazioni poi l'aspetto pratico che è quello della divulgazione come dicevo prima non solo con gli eventi ma uno dei settori della rete dovrebbe affrontare l'aspetto del turismo già si è parlato dello scambio fra le minoranze ma anche tra le minoranze ed altri in questo senso ho una piccola esperienza perché come associazione culturale da sette anni abbiamo realizzato una casa museo che qualcuno conosce già e che comunque in questi cinque anni ha visto cinque sei anni ha visto la frequenza di 30.000 visitatori giunti da 45 nazioni quindi c'è interesse a conoscere qualcosa per noi che vada oltre il sole il mare il vento per cui è famoso il Salento ma che entri nell'anima ecco questo tipo di turismo che si prospetta qua è quello di fare entrare nell'anima delle minoranze oltre che nei luoghi fisici questo è il taglio diverso che si può dare e che la gente adesso cerca io credo di avere semplicemente finito perché come sempre voglio dare degli input concreti attorno a cui possiamo lavorare e quindi io direi per quanto riguarda il sito partire dalla elaborazione di Ines Cavalcanti quindi del sito di Gian Bradocco centralizzare qualcosa che riguardi tutte le minoranze che fisicamente può essere o nel Piemonte o meglio ancora perché è istituzionale a Trento che però allarghi la sua dimensione e quello che tratta appunto inserendo o parallelamente o modificando il sito inserendo l'insieme delle minoranze che a piramide abbiano un punto di riferimento comune da tutti questi punti di vista grazie grazie allora chiamerei adesso per un intervento e possibilmente proposta anche Antonio San Martino della fondazione Agostina Piccoli che proviene dalla regione dalle comunità croate del Molise insomma prego qui c'è un microfono mi sono annotato un paio di cosette che non mi devono suggire avete citato i croati che raramente mi avete detto sentite vedete in queste riunioni perché siamo pochi perché viaggiamo poco siamo forse anche chiusi qualcuno meno come me viaggia molto ma poi non riesco a partecipare a tutto però oggi ho sentito qualche volta nominare i croati da Domenico Morelli mi sembra da qualcun altro però purtroppo sempre per citare qualche cosa di negativo qualche cattivo esempio non perché siamo cattivi perché si cita come cattivo esempio riguardo ad esempio la scuola come ha detto Morelli che stiamo perdendo dopo aver avuto una rinascita in questi ultimi dieci anni ora a causa di tagli a causa di scollegamento fra istituzioni scolastiche e ministero e tanti altri motivi anche politici purtroppo da non succede anche questo ci sono i piccoli politicucci locali che si vanno a intrufolare anche nei corsi scolastici per i loro figli gli amministratori in diretta in prima persona fanno anche di questo e succede anche questo e quindi avete ragione siamo un cattivo esempio ma ci sono però altre cose che possono essere da buon esempio purtroppo avviene da noi che le istituzioni sono meno presenti di altre forme di associazionismo cito in primo luogo la fondazione che rappresento ma anche la federazione che è nata da altre associazioni in primo luogo la fondazione perché è nata anche prima della legge per caso non perché sapevamo che sarebbe uscita la legge ma la mia fondazione è stata istituita il 22 novembre del 99 pochi giorni prima dall'entrata della legge 482 e subito abbiamo iniziato a proporre qualcosa anche a livello scolastico abbiamo iniziato a proporre dei progetti dei corsi di Nanascio Nanascio è il croato antico nostro che noi chiamiamo Nanascio e qualcosa abbiamo realizzato poi siamo andati anche avanti a proporre questo alle scuole e un paio d'anni abbiamo partecipato anche alla formazione per l'insegnamento nelle scuole forse Domenico conosce anche il nostro presidente De Renzis che ha seguito la storia e ha riproposto poi sistematicamente questo progetto la scuola anche senza la nostra partecipazione fino a un paio di anni fa quando con le nuove direttive arrivate dal ministero si dovevano fare questi progetti in rete eccetera siamo riusciti a realizzare anche un bel progetto cioè a concepirlo un bel progetto in rete facendoci partecipare anche delle scuole croate che erano anche all'avanguardia in questo avevano già esperienza in campo didattico di formazione di materiale per le scuole era un eccezionale se non che il presidente il nostro direttore didattico niente ha sbarato la strada e non ha voluto più portarla avanti quest'anno siamo tornati alla carica perché è cambiato la direzione abbiamo il nuovo direttore Javasine che è molto più sensibile per fortuna è un albanese è un albreche del Molise partecipa anche ai lavori della commissione a Roma e quindi per noi è il paradiso solo che ora abbiamo un altro problema del ministero perché sembra che non ne vogliono sapere più i progetti biennali iniziati si stanno completando forse quest'anno i primi e volerò proporre adesso non si può ma potremmo proporre solo formazione ma non è possibile perché dovranno attingere al personale interno una serie di problemi che ci hanno si stanno frenando questo è per il croato antico il croato posto a tutela in Italia ma stranamente la Croazia continua a inviare a stipendiare un insegnante croato di madrelingua il ministero dell'istruzione croato e continua ogni anno rinnova il contratto per l'insegnamento del croato però va benissimo anche questo ma certamente non è la tutela del nostro croato antico ma è diciamo tutelare e rinforzare non far perdere il croato moderno ma è limitato però non abbiamo non è come lingua curriculare abbiamo un oro al massimo due a settimana e poi non tutti partecipano non tutti gli alunni partecipano perché hanno bisogno poi dell'autorizzazione dei genitori del consiglio di istituto consigli di classe eccetera questo per dire quanti problemi abbiamo e avete sentito non è per vantarci ma purtroppo purtroppo alla realtà che è vivo più l'associazionismo privato da noi per quanto la nostra fondazione è riconosciuta giuridicamente abbiamo anche un'altra serve un punto a nostro favore però è più vivo l'associazionismo privato cioè tutto ciò che è extra istituzionale non ciò che è istituzionale a partire dalla regione alla provincia ai comuni anche i progetti per il 482 e voi avete fatto in rete ne ho parlato con il dottor Candido mi ha spiegato come seguono loro questi progetti dalla provincia ai comuni è perfetto per noi sarebbe un sogno riuscire a fare cose del genere da noi non è la provincia ma è la regione che fa sia da filtro e sia da ente proponente i progetti è una cosa strana però da noi avviene così ma quello che si diceva chi ne parlava all'inizio della proposta il primo chi è stato il primo relatore molto interessante mi sfugge chi è della seconda parte allora è stato il pomeriggio il signor il signor il signor il signor che era qui mi scuso mi scuso eccolo lì mi scuso non mi ricordo il nome cosa mi sto prendendo il filo che diceva addio diceva diceva di far partecipare la rete deve essere una vera rete cioè includere se mi sbaglio mi corregga includere anche queste forme extra istituzionali l'associazionismo che è presente nel territorio ed è quello che conosce meglio le esigenze e le problematiche delle varie comunità da noi questo non avviene ma parte dalla regione poi i sindaci come hanno richiesto in Piemonte si riuniscono firmano tutti e tre la proposta della regione ma loro i comuni non hanno proposto niente quando abbiamo chiesto ma hai firmato questo questo progetto avete accettato voi tre sindaci per realizzare un master che è costato ve lo dico 485 mila euro per formare due o tre persone che poi non hanno neanche per gli sportellisti che poi attualmente non sono neanche quelle persone formate con i master ma sono altri poi non andava bene però però non hanno pensato bene ma tanto che dobbiamo fare dare i soldi indietro visto che ce li danno ma non è detto puoi fare qualcosa di più utile ci avremmo costruito un museo o avremmo fatto un master adeguato alla nostra comunità è stato un problema ora Morelli sta spiegando come ho fatto solo un esempio per dire quando non c'è c'è questo strappo tra le istituzioni e le conseguenze le paghiamo noi stiamo perdendo gli sportelli linguistici esistono ma sono solo due persone che formalmente sono sportellisti ma non hanno nessuna praticamente non hanno cosa fare non hanno compiti da assolvere progetti da realizzare e quindi deve partire dalla base dal territorio da chi è presente noi o quelli come noi che realizzano pubblicazioni ricerche linguistiche fanno mostre concerti ma tante cose chi vede il nostro mio catalogo annuale che faccio ce n'è uno con me vi scandalizzereste direste ma quanti soldi avete avuto neanche una lira abbiamo fatto lavorare volontariamente le ho contate giorni fa circa una settantina di persone perché sono amici o familiari dei nostri soci della fondazione che hanno collaborato a fare una tournée di un gruppo folkloristico in Croazia o perché abbiamo fatto una mostra o abbiamo tenuto un concerto o una serata dedicata alla lingua minoritaria tutto gratuitamente volontariamente senza il sostegno di nessuno allora non pretendo che poi deve passare a noi però deve crearsi questa rete e deve includere questi elementi importanti delle nostre comunità che vedo che non è solo un problema nostro ma di tante comunità quello della presenza della componente privata non istituzionale quindi questa rete sarà forse certamente più utile a noi non ai ladini o ad altri perché siamo quelli più piccoli di quelli che hanno più bisogno quindi benvenga questa rete e davvero io spero che oggi ne esca qualcosa di concreto cioè un accordo fra di noi poi ci faremo ovviamente portavoci presso la nostra comunità anche a livello istituzionale per creare la rete con tutte quelle maglie fitte c'è qualcun altro fra noi che diceva di questa rete che ha più buchi non fili ma dobbiamo rattoppare e chiudere buchi più possibile e io una cosa però chiederei praticamente fattivamente oggi di creare un documento di d'intesa per la costituzione di questa rete non lo so chi si potrà far carico forse alla provincia di Trento per anche divulgare via email in qualsiasi forma questo documento dal quale partire per crearla effettivamente questa rete ecco speriamo speravo in questo io oggi mi aspettavo davvero di vedere questo realizzato tra gli organizzatori non so chi si può prendere carico di questo compito di scrivere praticamente va bene buon lavoro a tutti grazie l'ultimo l'ultimo iscritto a parlare è Enzo Vair Cesdomeo che viene dalla comunità provenzale poi io dirò alcune parole di proposta e conclusione prego dove c'è un microfono sì allora sono due cosettine velocissime dai qui te lo passo dai allora il Cesdomeo che ha come presidente Ugo Perone attuale assessore della provincia di Torino è sicuramente a disposizione per quello che serve e che riesce a mettere a disposizione per essere uno dei parni di questa rete il Cesdomeo è messo sui confini tra l'area occitana e l'area franco-provenzale e quindi è nel posto giusto per almeno unire le aree linguistiche culturali della provincia di Torino quindi è a disposizione questo è il primo dato e questo parlo con il vicepresidente del Cesdomeo secondo problema i franco-provenzali i franco-provenzali non è che sono ben messi in questo momento sono tante entità che viaggiano ognuno per conto suo quindi benvenga un qualcosa che al di sopra dei franco-provenzali delle città dei ladini in qualche modo una rete che unisca e che faccia quello che come diceva prima lobby perché in questo momento serve una lobby verso Roma da parte di tutte le le minoranze chiamiamole così ma anche se non mi piace quindi queste cose l'importante è che ci sia questa rete se poi sotto la macro-rete esistono delle piccole retti all'interno di ogni area linguistica se che so la rete occitana la rete franco-provenziale la rete sarda benvenga ma di sopra di questo ci deve essere assolutamente la rete che unisce tutte le minoranze tutto lì allora ci sono delle cose che sembrano assodate ma non lo sono partiamo dalla cartina delle minoranze linguistiche d'Italia possiamo spegnere la luce questa è la prima cosa che didatticamente come comunicazione esterna si deve fare perché io non so quante sono le persone che sanno forse neanche tutti noi che siamo in sala sappiamo esattamente dove sono dislocate le minoranze linguistiche quindi tornando al discorso che faceva stamattina Annibale Salsa come facciamo a creare un immaginario collettivo esterno se non ce l'abbiamo neanche noi internamente ecco quindi la prima operazione che abbiamo fatto per la provincia di Torino in occasione di Ceresole Reale è stata fare una cartina con delle specifiche per ogni minoranza linguistica questa cartina costituisce secondo me la prima comunicazione e poi abbiamo fatto un luogo per Ceresole Reale che era 12 lingue e abbiamo pensato che naturalmente l'idea sarebbe quella di continuare il lavoro di Ceresole Reale adesso lui gli ha messo le altre lingue d'Italia ma può essere 12 lingue le altre lingue insomma è ripreso il luogo con l'elenco delle 12 minoranze delle 12 lingue in Italia e quindi mi sembra che già non abbiamo sprecato il lavoro quindi fare rete significa non sprecare il lavoro che abbiamo già fatto prima quindi ci sarebbe una testata che può essere discussa può essere studiata eccetera e poi niente di tanto particolare ma l'idea sarebbe quella di avere una redazione giornalistica come diceva Aurelia Ergemista mattina composta sia da gente delle lingue minoritarie sia da persone esterne perché noi abbiamo anche bisogno della vista delle persone esterne questo ci porterebbe di nuovo a crearsi delle alleanze come era capitato nel 75 con Sergio Salvi quando Sergio Salvi in Italia ha scritto le lingue tagliate e patria e matria e relazioni proibite tutte le televisioni cioè finalmente c'era stata una comunicazione positiva quindi io credo molto in questa alleanza esterni interni non ci mancano gli amici esterni abbiamo visto le relazioni di stamattina di che portata anche culturale erano per cui credo che ci voglia una buona redazione poi naturalmente dei collaboratori occasionali delle varie minoranze esterne quando capita qualcosa di eccezionale diversificare molto gli argomenti in modo che ci sia argomento di attualità ci siano degli argomenti culturali ci siano degli argomenti musicali per portare all'esterno una comunicazione che possa interessare tanti pubblici differenti ad ogni notizia può essere collegato un video che può andare a finire una web tv e i link con tutti i siti che si occupano di minoranze linguistiche quindi naturalmente i friulani fanno delle news i sardi fanno delle news tutti cioè in questi anni si è sviluppato molto no? la notizia e quindi questo diciamo che sarebbe come un lievito ma quale sarebbe l'importanza di una news di questo tipo? quella di creare un indirizzario veramente mirato di tutti i giornali in Italia di tutti i giornali che ci sono all'interno delle aree di minoranza e di curare molto questa parte quindi naturalmente ognuno di noi si occuperebbe del contatto con giornalisti vari e magari quando facciamo di nuovo un'altra volta una riunione come questa possiamo avere l'interesse di esterni e lanciare dei temi secondo me io lo ripeto per quel che mi riguarda il tema patrimonio immateriale dell'umanità cui noi abbiamo lanciato un appello è oggetto di dibattito poi si può dire la lingua doc no, le lingue no piuttosto facciamo non so il carnevale di laietto però in qualche modo lanciamo un dibattito che è di stile europeo e e e mi sembra che sia una cosa che è alla nostra portata sia a livello economico e sia a livello di persone che possono collaborare è evidente che ci deve essere una centralità quindi una persona che ha la responsabilità di questo ma queste sono tutte cose che se c'è la volontà di farlo credo che che si possa fare ecco semplicemente questo vuoi dire anche tu qualcosa dillo no, no oggi siamo sfortunati prima non funzionava il progettore ora non funziona internet e il mio telefonino ha smesso di essere connesso e no e prendeva benissimo fino a un minuto fa e comunque l'avete vista per pochi istanti siete riusciti a vederla l'idea è quella di fare una newsletter in cui ci siano notizie nelle due lingue naturalmente in italiano e nella lingua di minoranza che abbiano una una certa possibilità di una certa eco nella stampa nazionale io ho un'esperienza ho avuto due interviste quest'estate di quattro ore l'una una di Repubblica una del National Geographic in alcuni casi ho dato anche molti nomi di voi probabilmente National Geographic ha contattato anche qualcuno di voi perché non sapevano niente niente allora volevo concludere questo pomeriggio abbiamo sentito tantissime cose importanti prima di cedere il posto all'assessore per le minoranze linguistiche della regione autonoma il dottor Luigi Chiocchetti io avrei avuto da fare qualche proposta ma ovviamente non ho avuto non ho avuto modo di farlo mi limito soltanto a dire che di tutte le cose dette oggi pomeriggio in termini di proposte operative ho sentito delle parole chiave che mi sembrano particolarmente rilevanti per esempio quando Giuseppe Carongiu ha parlato di difesa ambientale insieme a difesa culturale e linguistica io che un pochino insomma in giro per il mondo vado a fare cose analoghe anche con minoranze che non hanno assolutamente niente anzi che sono possibilmente perseguitate e schiacciate dai governi locali vedo che sono parole chiave vincenti allora io ritengo che un punto di partenza una proposta culturale che avrebbe senso e che sarebbe alla base sarebbe proprio una specie di grado zero dell'unità e della condivisione fra tantissime minoranze cominciando dall'Italia sarebbe proprio qualcosa tipo linguaggio e ambiente linguaggio e conoscenza ambientale linguaggio e appunto e conoscenza della natura e che apre degli spazi enormi che sono alla base di tutto qui abbiamo per esempio l'architetto Loredana Ponticelli che ha fatto un lavoro bellissimo proprio qua in Val di Fassa con la sua prospettiva di architetto ma entrando in questioni di linguaggio e conoscenza dell'ambiente questo vi sto dicendo adesso finisco subito perché non ho avuto tempo di esprimere di raccontarlo un po' in dettaglio questa cosa ma in giro per il mondo sapete migliaia di lingue no l'assoluta maggioranza minoritarie schiacciate che non hanno mai visto la scrittura che gli stati se possono li fanno secchi quindi tutto questo è la realtà del mondo spesso anche quando ci sono dei dati ormai da 15 anni sono in Messico dove sono circa 185 lingue parlate attualmente nelle comunità in Amazzonia neanche dire molto di più nelle comunità spesso gli anziani dicono perché uno dice ah nella vostra comunità nel vostro gruppo tutti parlano la lingua e le persone che sanno davvero dicono ah ah tutti parlano la lingua come e allora mi diceva una volta qualche anno fa già un anziano ma poi neanche tanto anziano sicuramente la più giovane di me che prende un fiore lo raccoglie e dice chiedi a quel ragazzo se è in grado di descrivere questo fiore nella nostra lingua perché ormai c'è una decadenza verticale delle possibilità di uso allora questa proposta che adesso sta diventando vincente si ottengono anche fondi di ricerca e altre cose per questa attività sarebbe una base una specie di grado zero cosa c'è di più basilare del parlare del proprio stesso ambiente del descriverlo nelle relazioni spaziali su, giù avanti, indietro e poi fino all'ultimo all'ultimo a Roma diciamo baccarozzo un ultimo insetto sconosciuto se sai il nome se non lo sai e saper descrivere com'è come non è questo è un modo per attivare e creare anche un certo orgoglio quasi competizione mi piace la parola ma una certa competitività anche nella lingua perché spesso non solo in Italia ma in giro per il mondo ovviamente sembra che la gente parli le lingue fanno i censi dicendo parli la tua lingua attiva dice sì sa dire quattro sciocchezze cioè in realtà ormai il depauperamento conseguenza della modernizzazione tutto ha svuotato e qui sarebbe un discorso importante da fare ma ovviamente non abbiamo più tempo di farlo ma la mia proposta oggi come proposta operativa di come costruire una rete e tutti questi strumenti che abbiamo visto tante cose sono state dette tutte convergono si potrebbe provare a buttare giù un documento in cui convergono varie di queste proposte ma avendo un certo quid un identitario progettuale che sia portante perché se no possiamo fare di tutto però per esempio questo aspetto che già di per sé è un'impresa assolutamente gigantesca solo per le comunità italiane e non c'è nessun bisogno che tutte le comunità linguistiche italiane partano con la loro con un certo azione si parte chi può e chi non può chi ha dei passi avanti ma si crea un effetto di far circolare e far venire fuori il livello di conoscenze ambientali nei sensi più ampi che comprendono anche il meteorologico comprendono i nomi della neve o dei verbi per nevicare o per l'acqua del mare che sbatte sulle rocce o qualsiasi altra cosa questo è un settore enorme che può mettere in movimento un nuovo diciamo autoriconoscimento e orgoglio linguistico che spesso di fronte alla modernità specialmente le generazioni giovani ormai si sentono un po' spiazzate certo che sanno parlare qualcosa sanno dire cose nella lingua ma come diceva quel vecchio parla 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 per dire che per dire che cosa magari quattro scemenze e oltre a quella non riesce a dire poi passa la lingua maggioritaria capito quindi da cui la sfida raccoglie un fiore e prova a descriverlo nella tua lingua questo fiore ecco ora questa era la mia proposta di base ovviamente non mi sottraggo per niente se si tratta di provare a buttare giù alcune delle idee che non sono preso nota di un bel po' di cose che sono state dette oggi moltissime saranno sfuggite però qualche cosa si potrebbe mettere in movimento però pensando appunto con alcune linee progettuali specifiche in cui includerei personalmente ma questo ovviamente è un oggetto anche la mia questa idea che credo anche alcuni di noi qui presenti ho citato prima qui l'architetta Ponticelli che è di Trento e ci abbiamo varie persone che possono darci una prima dritta su certe idee per una costruzione progettuale di una rete che abbia una specificità e qualcosa anche che esemplare esemplare non una cosa in più qualcosa che da lasciare a bocca aperta tantissimi altri altri ambiti culturali e linguistici più o meno minoritari ma anche maggioritari nel mondo quindi un po' questa è l'idea di fondo allora adesso non mi resta che passare questa sedia prego ecco ben allora una buonasera ad oggi voi altri se ne deve il paio a chi che ha organizzato questo convegno la provincia autonoma di Trento al servizio alle vendazze linguistiche vi saluto dal buon volentiera perché parlare con voi autres vuol dire se troare a ciasa se troare tra persone amiche saluto tutti voi vi ringrazio per l'invito ringrazio ovviamente il servizio miglioranze linguistiche della provincia e saluto davvero di cuore tutti voi perché appunto con voi ci si sente a casa ci si sente tra amici tra l'altro molti di quelli che sono qua li conosco insomma da lunga data o da meno tempo porto il saluto questa mattina purtroppo appunto sono mancato perché ero a Bolzano abbiamo fatto seduta della giunta regionale porto il saluto della giunta della regione autonoma Trentino Alto Adige e sottolineo subito questo la vicinanza della regione autonoma Trentino Alto Adige alle nostre comunità di minoranza la Ladina la Mocchena e Cimbra voi sapete appunto come sono dislocate sul nostro territorio abbiamo Ladini qui nella valle di Fassa quindi nella provincia di Trento abbiamo i Ladini nella provincia di Bolzano Gardena Badia abbiamo i Ladini ma non sono della nostra sotto la nostra sotto il nostro cappello diciamo così nella vicina provincia di Belluno di cui conoscete appunto le vicende e allora volevo sottolineare nel portare il saluto della giunta regionale appunto l'attenzione della regione che è sempre stata che ha sempre riservato appunto alle minoranze alle minoranze linguistiche molti progetti molte cose questo stesso istituto culturale Ladino di cui siamo ospiti oggi ottieni i sostegni insomma della regione molte associazioni molte istituzioni molte istituzioni insomma c'è una vicinanza davvero importante ovviamente insieme alla provincia autonoma di Trento e a quella di Bolzano allora il significato anche di trovarci qui nella sala del museo Ladino quindi nell'istituto culturale Ladino in buona sostanza è di ulteriore significato tra l'altro ci troviamo all'interno di una mostra che insomma vuole descrivere un po' anche il passato di questo paese di questa zona insomma tutti i significati che ci fanno meditare che ci danno degli spunti di riflessione il momento poi direi anche è importante in cui si è svolto si sta svolgendo questa giornata un momento in cui ci vediamo che ci vede impegnati nel censimento ahimè mi pare che da altre parti d'Italia non sia possibile la dichiarazione insomma di appartenenza comunque dichiararsi appartenente a un gruppo linguistico noi invece qui lo possiamo lo possiamo fare lo facciamo davvero volentieri ovviamente lo facciamo in maniera in maniera sentita anzi ci sentiamo anche impegnati nei confronti evidentemente delle nostre comunità a far sì che i cittadini appunto appartenenti alle comunità di minoranza si dichiarino appunto appartenenti non tanto per una questione statistica come qualcuno vuole sostenere ma proprio per una questione appunto di identità di dire sull'esterno quello che siamo allora le sollecitazioni che sono venute a questa giornata io credo sono davvero importanti anzi io credo e spero che ci sia poi una raccolta anche di tutte queste di tutto questo materiale di tutte queste relazioni sia del mattino che del pomeriggio però mi pare di poter dire due cose brevemente per salutarvi anche perché la giornata mi rendo conto è stata pesante un piano è il piano diciamo della 482 quindi appunto la norma statale che tutti ben conosciamo è evidente l'abbiamo detto a Cereso Reale lo diciamo in tutte le occasioni in cui ci ritroviamo non se era ed è una legge buona nei principi in quanto stabilisce forse nella sua traduzione pratica non è stata del tutto come dire del tutto compresa oppure volutamente non compresa e non eseguita in tutte le sue previsioni ovviamente una legge senza risorse è una legge che è destinata solo a rimanere lì per cui su questo fronte io credo che dobbiamo mettere in atto tutte le tutte le le idee di cui siamo capaci accompagnate ovviamente dalle istituzioni da chi rappresenta da chi rappresenta le istituzioni da chi comunque diciamo per incarico più di responsabilità deve fare queste cose per portare avanti appunto e sensibilizzare su questa 482 quindi questo significa coinvolgere per esempio i nostri parlamentari parlamentari che nelle varie regioni o province in cui ci sono le minoranze linguistiche coinvolgerli affinché prendano coscienza del fatto che questa 482 o c'è o non c'è se c'è la dobbiamo applicare la dobbiamo la dobbiamo appunto implementare con risorse dobbiamo appunto dobbiamo per l'appunto dare la possibilità che sia applicata potrebbe essere un'idea mi pareva qualcuno l'aveva l'ha detto ma lo pensavo anch'io per esempio all'interno della conferenza Stato-Regioni creare per l'appunto un nucleo che si occupi di questa questione oppure gli stessi presidenti delle regioni e delle province dove ci sono le minoranze linguistiche che creino una sinergia insomma un qualche cosa di concreto ma per realizzare qualche cosa di concreto ecco detto questo anche la conferenza una volta si faceva la conferenza nazionale ai sensi della 482 l'ultima è stata lo citava qualcuno a Palermo ma perché perché c'era la loggia che mi pare di piano degli albanesi quindi evidentemente c'era anche un elemento come dire per cui se ad occuparsi di queste cose non c'è qualcuno che proviene dalla comunità di minoranza è chiaro che la sensibilità non c'è qualcuno ha detto e sono d'accordo abbiamo molti nemici i nemici ce li abbiamo non solo parlando di noi a Roma o da qualche altra parte ce li abbiamo anche in casa insomma dicevo prima ci sono delle belle coincidenze insomma ci troviamo nella sede dell'istituto culturale ci troviamo nel momento del censimento ci troviamo in un luogo in cui c'è stato riconoscimento dallo mito patrimonio dell'umanità non solo per il paesaggio naturale ma anche perché è un paesaggio antropizzato caratterizzato dalla presenza di minoranze linguistiche allora voglio dire abbiamo anche dei nemici in casa voglio dire che lavorano per disgregare la comunità di minoranza quindi dobbiamo un po' come dire stare attenti a non guardare troppo lontano e dimenticare quelli che abbiamo vicini che appunto in alcune occasioni stanno lavorando per disgregare gli amici della provincia di belluno hanno fatto un referendum gli amici ladini dei tre comuni storici ladini hanno fatto un referendum con cui al 90% mi pare o comunque con un risultato plebiscitario hanno detto di voler ritornare alla comunità linguistica ladina delle vallate attorno al sella come era un tempo bene fatto questo referendum seguite tutte le promesse come dire dei politici che volevano poi portare avanti questa cosa il tutto è morto quindi la cosa è ferma a Roma allora voglio dire ci sono delle contraddizioni enormi su cui credo anche noi portiamo una certa responsabilità e dobbiamo lavorare insieme questo allora il piano il piano nazionale sul fronte diciamo interno nostro credo sia già stato detto almeno penso sia penso insomma sia stato citato al fatto che noi abbiamo come come regione autonoma evidentemente tutta una cosa tutta una disciplina normativa particolare dallo statuto anzi dalla costituzione allo statuto e giù e giù le leggi abbiamo in provincia di Trento in particolare fatto questa riforma istituzionale che abbiamo poi accompagnato con una nuova legge sulla protezione e promozione delle minoranze linguistiche che in buona sostanza ci fa essere come comunità di minoranza i ladini i mochi i cimbri come appunto una risorsa una ricchezza irrinunciabile dell'intera comunità un concetto molto molto interessante che tengo a dire e a sottolineare accanto a questa c'è anche secondo me è tempo ed ora che ci rendiamo conto anche di questo l'aspetto certamente dei diritti delle comunità di minoranza perché la nuova legge sulle minoranze linguistiche dice questo ma dice anche dei doveri delle comunità di minoranza siamo noi per primi che dobbiamo che dobbiamo portare avanti questo discorso appunto dell'essere minoranza linguistica e quindi vanno benissimo e li sottoscrivo in pieno tutti quegli interventi che hanno evidentemente tutti ma quelli che hanno parlato di coinvolgimento della scuola mi fa piacere che a questo convegno sia stata invitata la scuola che siano stati invitati i mass media i giornali la radio la televisione e quindi tutte quelle sollecitazioni a coinvolgere il mondo della scuola a coinvolgere i giovani ho sentito molte volte l'accenno ai giovani a trovare nuove modalità per far piacere per accattivare il mondo delle minoranze il mondo delle minoranze linguistiche proprio per il valore che queste minoranze linguistiche hanno allora nella regione Trentino Alto Adige nella provincia di Trento io mi sento davvero portatore di una grande responsabilità perché appunto non è facile è difficile fare le battaglie per arrivare ad avere tutta una serie di normative che ti tutelano forse è ancora più difficile poi attuare queste normative e far sì che il sentimento identitario e l'appartenenza a quel forte senso identità sia portato avanti e sia soprattutto vissuto dalla nostra comunità allora ecco la grande responsabilità che abbiamo quindi da questo punto di vista l'impegno evidentemente mio ma di tanti che operano sia qui in valle che a Trento che anche nella vicina provincia di Bozzano è davvero grande da questo punto di vista e allora per essere concreti io se ritenete data questa responsabilità anche che forse più di qualche altra regione portiamo io sono pronto a assumermi questa non so questo ruolo questo compito più che un ruolo di di essere di essere investito come regione come provincia autonoma di Trento di questa di questa di questa rete di questo magari non so lanciando un documento eventualmente per punti già fin da questa sera per essere poi cominciare ad essere operativi sono convinto anch'io che più stiamo insieme più ci parliamo più mettiamo a fattore comune le nostre esperienze soprattutto le nostre progettualità sapremo davvero tracciare un solco importante non solamente nelle comunità nella comunità nazionale purtroppo in un momento in cui insomma forse l'attenzione alla minoranza linguistica non è del tutto alto anche perché altri sono evidentemente i problemi ma anche in prospettiva europea è stato citato mi pare nel corso della giornata il trattato di Lisbona come tutti sappiamo per la prima volta parla delle minoranze linguistiche parla della ricchezza culturale appunto che è costituita dalle minoranze linguistiche d'Europa e quindi anche da questo punto di vista abbiamo il comitato delle regioni che si fa portatore delle esigenze delle sensibilità dei territori quindi davvero l'orizzonte è grande pertanto anche l'unità la rete tra di noi comunità di minoranza linguistica dell'Italia ma poi con un occhio rivolto all'Europa per appunto costruire questa rete europea delle piccole minoranze linguistiche è davvero un tema affascinante su questo io mi impegno fin d'ora se ritenete se credete insomma la regione autonoma Trentino Alto Adige la provincia di Trento c'è io ci sono se ritenete si può davvero concretizzare qualche cosa ovviamente la giunta regionale di questa mattina informata di questa questione si sente appunto solidale e fa molti auguri a tutti gli amici delle minoranze linguistiche allora Geve Salude e con una parola la Dina se non è già stata detta Devel Pai Dio vi renda merito Dio ve ne renda merito come si traduce insomma questa questa parola Devel Pai davvero per quello che fate per quello che avete fatto per quello che farete ma Devel Pai per quello che siete per quello che siamo siamo una ricchezza per l'intera collettività Grazie